buongiorno a tutti allora iniziamo la giornatona con le due partite di coppa italia che tra l'altro napoli atalanta non l'ho vista a parte che pensavo fosse atalanta napoli e non napoli atalanta primo però ero concentrato su inter juve quindi probabilmente anche per quello poi fortunatamente non l'ho vista ma visto liverpool brighton che è stata pure peggio perché da quello che ho sentito è stata una partita veramente da sonno anche se l'atalanta 19 tiri in porta quindi già ha messo come si suol dire le manine avanti però lo 0 a 0 è il risultato più malefico che puoi fare in trasferta dopo la sconfitta perché se perdi è peggio naturalmente 2 a 1 è peggio 3 a 2 è peggio però lo 0 a 0 è un risultato malefico perché permette alla squadra che ha pareggiato in casa di andare in trasferta e giocarsela per di più adesso col fatto che gli stadi sono vuoti tu giochi in campo neutro è come giocare in campo non è il tuo stadio lo stadio della squadra avversaria però non essendoci il pubblico sì ci può essere lo speaker che spinge la squadra le canzoncine i corretti dei tifosi ma non è come avere i tifosi che ti alitano addosso che ti te ne dicono di tutti i colori quindi fare 0 a 0 in casa poi andarsela giocare in trasferta tu hai due risultati su tre a disposizione punto primo lo 0 a 0 e vai ai supplementari e poi vediamo cosa succede punto secondo segni un gol obblighi l'altra squadra a farne due quindi l'altra squadra è obbligata punto primo a vincere come segni un gol l'altra squadra è obbligata a vincere se no è eliminata e poi te la giochi soprattutto quindi è vero l'Atalanta è favorita eccetera 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 però se il Napoli se la gioca con uno Zimeni in più che magari c'ha anziché dieci minuti perché se dito che è rientrato ha sgambettato un attimino mezz'oretta Zimeni in campo potrebbe fare la differenza perché per loro Zimeni è come per noi più o meno Lukaku forse qualcosina meno però per loro avere l'armadio davanti alla porta con quei come li possiamo chiamare quei puffi veloci non lo so come li possiamo definire folletti folletti folletto Insigne e folletto Mertens pronti a indescare osimeno sfruttare gli spazi che un armadio ti crea per di più la difesa dell'Atalanta sappiamo bellissimo che tra virgolette è un po' il suo punto debole centrocampo e attacco sono tanta roba la difesa si è vista anche con la Lazio mancavano per di più dei giocatori importanti e ahimè è andata come è andata quindi attenzione perché è una partita ancora aperta tenendo presente che l'Atalanta anche per quello che ho leggicchiato guardicchiato eccetera fatto qualcosina di più certo il Napoli potrebbe avere una per mezz'ora anziché per dieci minuti un Osimeni in più che potrebbe se la partita è ancora in bilico mettiamo che siano 0 a 0 1 a 0 per l'Atalanta ti entro un Osimeni pareggia e il Napoli va in finale per l'ennesima volta teoricamente contro la Juve l'altra partita dell'Inter ne abbiamo già parlato quindi è inutile che torniamo sul discorso qualcuno dice che ce la possiamo giocare eccetera con un Lukaku e un Hakimi in più la mia paura è che i ragazzi non entrino in campo con la voglia di ribaltarla la mia paura è quella che vanno lì tanto per fare la partita poi vediamo cosa succede ma temo una partita come con lo Schattar a San Siro che abbiamo fatto 0 a 0 che si attaccava ma per onore di firma come si suol dire però non si sa mai l'Inter degli 1 a 2 in casa li ha ribaltati più di una volta quando vincemmo una delle coppe UEFA perdemo due partiti in casa per 1 a 2 andammo a vincere in trasferta 3 a 1 o vincemmo 3 a 1 e perdemmo 2 a 1 in casa quindi attenzione però non è che mi faccio troppe illusioni teoricamente la partita ora è una rivincita ennesima Napoli-Juve o una cosa inedita Atalanta-Juve attenzione che l'Atalanta la Coppa Italia la potrebbe anche riuscire a vincere detto questo ragassolli per quanto riguarda le schedine e bollettine del Gigione ho già guardato ma siccome manca Tottenham-Celsi questa sera non vi dico nulla vi posso solo dire che il campionato francese è andato abbastanza bene e le schedine del campionato inglese sono andate abbastanza bene per non dire benino ma non dico altro perché poi ne parleremo questa sera al termine di Tottenham-Celsi partita che mi gusterò come sempre visto che Sky il campionato inglese è quello tedesco ce li ho nello sport e qualche partita me la fan vedere credo che questa sera mi godrò Tottenham-Celsi penso, penso, non ho guardato ma credo di sì perché ieri c'era il Liverpool-Brighton quindi presumo che questa sera ci sarà Tottenham-Celsi poi l'altro giorno ho guardato anche un attimino il basket c'era il Milwaukee che stava stravincendo contro non mi ricordo più che squadra ma erano 119 a 93 a 6 minuti dalla fine quindi un massacro devo dire che Milwaukee ultimamente è in risalita nel basket in parte città di happiness me la ricordo per quello comunque ragazzoli niente Napoli-Atalanta 0-0 partita da sonno vedremo al ritorno se magari giocheranno un attimino più più aperti giusto perché lo 0-0 ti manda i supplementari penso che nessuno abbia voglia di fare i supplementari soprattutto l'Atalanta che la settimana dopo c'è la partita di Champions con il Real Madrid quindi martedì Coppa Italia martedì o mercoledì e poi la settimana dopo Champions League Atalanta-Real perché è il 16 quindi per forza di cose ero come diceva il nostro professore di italiano è vero che ero per oro non si può oro comunque ragazzoli io vi saluto vi ringrazio abbiamo iniziato così la giornatona poi proseguirò con qualche bella call news tanto per proseguire perché siamo molto molto in arretrato sono dietro di ben 5 mesi 6 mesi oramai siamo in febbraio sto facendo le call news di luglio e ne ho tantissime quante ne ho ultimamente ce ne sono un po' meno devo dire però tutti i giorni due o tre notizioni riesco sempre a metterle da parte adesso dovrò convogliare quelle di novembre dicembre gennaio e febbraio ma siccome sono strapieno aspetto un attimo di eliminare quelle vecchie tanto non scappano le ho salvate su facebook quindi mi basta andare su facebook e andare nel mensile post e mi appaiono tutti e quindi poi vengono salvati e li metto nella cartella e piano piano si si fanno tanto a dio piacendo non mi corre dietro nessuno mi auguro che abbiate visto invece l'ultimo video che riguardava quelle due cosine un po' particolari perché ci tengo ci tengo particolarmente che mi diate un parere soprattutto su quella specie di noi che che ho fatto della generazione felice ci terrei veramente molto se la guardate e gli date un parere detto questo ci vediamo alla prossima ciao